musica musica ma è di Tony... di Tony Hawk, me l'ha regalato lui no bro, ma si compra... questa è una firma quei Tony Hawk me l'ha regalato ma si compra al mercato no no, quei Tony Hawk, fidati musica hai visto? ma questa cosa è facilissima ed è pure sbagliata ma non puoi dire, non sei nel giro ma guarda, questo lo fa solo Tony Hawk fammi vedere... usalo, usalo... anche solo che ci vai normalmente ma... sei andato no, non l'hai visto, era il trick ma non l'ha usato no, non sei nella Wii, non capisci vai piano bro, vai piano non c'ho paura, vai piano ma scusa, ma che si... trova, guarda, non è facile capito, ma perché ti regge? non ci sei andata... oh, l'hai visto? l'hai visto? oh 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 oh... che sta fai? underground pro è underground, non sei nel giro? ma perché lo aiutavi? Cioè non ci sono andata solo Però è una questione di sostegno Guarda Ha del potenziale È underground Non puoi capire Non sta facendo niente Sta usando lo scritto nel modo più sbagliato possibile Che sta a fare la foto bro? Sì bro È abbastanza underground Molto underground Non è underground Stai a City Life Che ci sta di underground? Ma come ci abiti? Ma viene dall'underground Hai detto abiti a City Life Non l'abito Con le case là Quelli sono underground Ci sono un underground Quello è underground bro Vita da strada Ma costa 10.000 euro un affitto là Eh che cosa eh No è in povertà stiamo Tu dove abiti? A fianco Underground Quello serve per le scarpe No bro Questo è lo skate Lo so C'ho skate da due giorni Ti pare che non lo so Ma la spazzolina è fatta apposta per Ma perché? Perché è underground Stiamo scrivendo la storia L'ho chiuso L'ho chiuso L'hai ripreso L'hai ripreso L'hai ripreso Bro Che ha fatto Che Ma che è backflip Dai su Basta Bellissimo C'è il mio canto Sarai Grazie.